Chievo, Atalanta, le formazioni ufficiali Chievo e Atalanta si sfidano nel primo posticipo domenicale. Alle 18, Gasperini, reduce dalla scorpacciata europea, sorprendente, per proporzioni, l'affermazione sull'Everton, bussa alla porta di Maram. L'obiettivo, in casa Atalanta, è chiaro, dare seguito all'onda positiva e risalire anche in adicontro, i gialloblu, al momento a quota 3 in classifica, puntano a cancellare la pesante sconfitta con la Juventus. Nel Chievo, Cesare Tomovica a comporre la cerniera centrale, con Cacciatore e Gobbi in corsia. Radova Novica è, come di consueto, il perno in mezzo al campo, inglese l'unica punta. Da seguire i movimenti di Birsa, chiamato a collegare i reparti e ad accendere la manovra. A Castro ed Etemai il compito di proporsi in zona gol. 4-3-1-2, Sorrentino, Cacciatore, Tomovic, Cesar, Gobbi, Bastian, Radova Novica, Etemai, Castro, Birsa, inglese. Atalanta Gasperini non muta il suo credo. Palomino e Caldara sono entrambi nell'undici iniziale e formano il pacchetto di difesa con Masiello. Senza Spinazzola, in corsia vanno Ateboer e Castagne, con Derone e Freuler a gestire gioco ed interdizione. Kurtic si muove sulla tre quarti con Ilicic, Petagna all'ultimo terminale. 3-4-3, Gollini, Palomino, Caldara, Masiello, Ateboer, Freuler, Derone, Castagne, Kurtic, Petagna, Ilicic. Sous-titrage Société Radio-Canada